Hi guys, ciao ragazzi e bentornati al mio podcast di Business English. Oggi vi parlo dei messaggis, messaggi. Can I leave a message? Posso lasciare un messaggio? Can you tell him I called? Por digli che ho chiamato. Would you like to leave a message? Or can I take a message? Vuole lasciare un messaggio? That's all. Bye. See you tomorrow.